Ciao a tutti! Oggi prepareremo la cioccolata calda bianca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa. Gli ingredienti sono latte intero, zucchero, cioccolato bianco, amido di mais e cannella. Andiamo il video alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il cioccolato bianco ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Aggiungere il latte, l'amido di mais e la cannella. Ed azionare il bimbi per 9 minuti, 90 gradi. Velocità 4. La cioccolata calda è pronta, lasciare intiepidire e servire. Cioccolata calda bianca. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. Grazie. Grazie.